Si è iscritto ufficialmente al partito No Mask Paolino Becchi, il professor Paolo Becchi dell'Università di Genova. La mascherina è come il preservativo. L'odore delle piante, dei fiori, della natura. Il virus? No, non lo vedo. Dov'è il virus? Il virus! Non lo vedo il virus! La paura! La paura del virus! Non posso più uscire, ho bisogno di questa. È il nuovo preservativo del secolo. Contro l'HEDV ha funzionato il preservativo in basso e ora però sulla faccia bisogna mettersi questo e come ha detto Zingaretti ieri, ma sarà la moda dell'estate e la dovremo tenere questa cazzo di mascherina fino a che troviamo il vaccino. Ma il vaccino sull'HIV, l'abbiamo mai trovato? No! Ma in questo caso, questo cazzo di preservativo, me lo dovrò tonare di fronte alla bocca per i prossimi 20 anni perché non ci sarà il vaccino? Ah, ma Zingaretti ha scoperto il problema. Non c'è il vaccino, ma potremmo tanto obbligare tutti, quelli che hanno compiuto 65 anni, cazzo, li compio tra pochi mesi, a farsi vaccinare. Non importa, un vaccino ce l'abbiamo, facciamo quello anti-influenzale e lo mettiamo obbligatorio a tutti. Così, quelli che hanno 65 anni in poi, dopo l'esperienza che c'è stata a Bergamo, che hanno vaccinato tutti, moriranno se arriverà un altro virus. Poi a un certo punto tenta di bruciare la mascherina. La brucio, la brucio, la brucio, la brucio! Ce la devo fare, ce la devo fare, ce la devo fare a bruciare questa cazzo di mascherina! Io la brucio questa cazzo di mascherina! Non la voglio vedere questa cazzo di mascherina! Basta! No, il virus non è entrato nei polmoni, il virus è entrato qui, nella nostra cazzo di testa! E io me lo voglio levare questo virus, e mi voglio levare questa cazzo di mascherina! Ecco la vostra mascherina del cazzo, che non riesco neanche a bruciare, ma la albrucio, la voglio bruciare! Questa mascherina, questa mascherina, mi aiutate! Non riesco a bruciarla! Perché magari resiste al fuoco la mascherina! Chiamiamo, ti prego, chiamiamo! Essendo fatta la normativa europea è in infuga, quindi è anche sciocco! Chiamiamo, chiamiamo! Mamma! Pronto? Paolo! Sì? Sono Cruciani, come stai? Eh, abbastanza bene, non lamentiamoci, cosa vuoi che ti dica? Sei sempre scatenato, hai cercato di bruciare addirittura una mascherina? Eh, ma sì, ma no, perché cosa vuoi che ti dica? Quando c'era bisogno delle mascherine, non c'erano le mascherine, anzi ti dicevano che non servono a niente! Adesso, per un po' di tempo ti hanno detto che, vabbè, è importante mettere quanto entri nei negozi, quando sei al chiuso e va bene! E adesso a Genova mi si dice che devi addirittura portarle quando giri per la strada, ma io ho detto ma questa è pura follia, mi sembra una cosa allucinante! Ci sono 28 gradi, un caldo pazzesco, si sta benissimo, io con questo cazzo di occhiali mi si appannano immediatamente e non ci vedo un tubo! Mi hanno detto che ci vogliono delle cose mascherine speciali per quelli che hanno gli occhiali, mi dico ma cosa io mi copro la mascherina speciale per via degli occhiali? Ma voi siete pazzi! Hai cercato di bruciarla addirittura, per te sono totalmente inutili! Ma adesso sì, in questo momento qui, sono una paglia ciata, non c'è più il virus e io mi devo mettere la mascherina! Ma chi ti ha detto che non c'è più il virus? Ma sei una tragedia umana! Sei una tragedia umana! Sei una tragedia! Fammi sentire! Perché non capisci letteralmente un cazzo! Pensa, disse il vecchio! Fammi sentire Paolo, scusa, non servono a un cazzo! Ma come fa a dire che non servono a un cazzo? Ma è un medico, era un filosofo del diritto, ora è pure medico! Ma che dite ragazzi? Su! Ma chi ti ha detto che non c'è il virus? Chi ti ha detto che non c'è? E te lo dico io! Sei tu che te lo sei infilato nella testa, non nei polmoni e non te lo leveranno più! È sparito! È sparito! Fammi sentire! Il virus d'estate, di solito sei una testa di cazzo! Spariscono i virus! Capisci? È normale! Sei tu che sei anormale nella tua mente! Ma quindi non esiste più il pericolo del contagio? Disse Becchi che non è un medico ma è uno stronzo qualunque! Sì, io sarò uno stronzo con tu, ma tu sei una testa di cazzo! Sì, questo va bene, ma non cambia la sostanza! Uno stronzo e una testa di cazzo di virus non sanno nulla! Quindi taci! Taci e parla di filosofia del diritto semmai! Voglio capire una cosa Paolo, non ho capito! Per te il virus praticamente non esiste, dunque questa cosa delle mascherine è un'imposizione! Ho detto che è finito la carica del virus, non c'è più! È normale! I virus cominciano, hanno una certa diffusione, toccano! Dunque, d'accordo! E dunque a che servono le mascherine adesso? A imporci delle regole? Servono a qualcuno per fare dei soldi? A che servono? Ma no, ma è chiaro che c'è una strategia dietro, no? Qual è? Qual è? Eh, quello è un stato tecnico-scientifico, no? Non l'avete capito! C'è il tentativo proprio di vedere, stai quando fai quegli esperimenti dei mobili dell'IKEA che a un certo punto dici, mi faccio vedere il punto di soglia quando il mobile facca, no? Stanno cercando, perché lì ci sono delle persone intelligenti, di sondare qual è il punto di rottura. Mamma mia! Il posto italiano è così coglione che li possiamo far entrare in piatto all'agosto? Ma questo qui ha pure insegnato all'università, pensate! Mamma mia! Lì ci sono delle persone che stanno studiando questo, sono dei medici, e guarda i medici hanno avuto sempre una funzione, medici, scienziati, eccetera, hanno avuto durante il periodo del nazionalsocialismo questa funzione, qui i medici, e loro stanno sperimentando... Stanno sperimentando delle cose sugli italiani come feciano i medici durante il nazismo? Eh, più o meno, anche se lì era molto più forte... Ma sei pazzo sei! Ma per fortuna non insegni più all'università! Ormai deliri! Paragonare i medici ai nazisti deliri ormai! Sono esperimenti sociali su un popolo intero, esperimenti sociali incredibili! Esperimenti sociali! Vedere fino a che punto un popolo può essere schiazzato! Esperimenti sociali! Cruciali, poi digli qualcosa a sto qua, ma... Prima non potevi uscire di casa, adesso è, ti facciamo uscire di casa, ma con i guanti, con le mascherine, con tutti i preservativi possibili, la mascherina oggi equivale allo chadoro islamico, al velo islamico, io non me lo metto, va bene? Non me lo metto! Duca, anche il vaccino secondo te è una roba terribile, anche il vaccino è una roba di imposizione, tu te lo farai il vaccino se verrà fuori o no? Ma col cazzo che mi fa... ma il vaccino che senso ha? Ti auguri allora! Il vaccino non potranno più trovarlo perché il virus non c'è più! Ma che dici se hanno isolato? Ma vedi che non sai un cazzo! hanno già il vaccino influenzale, lo stanno già sperimentando, scemo! Per sicurezza, per sicurezza, quelli che hanno 65 anni gli faremo fare il vaccino antinfluenzale, obbligatorio, e col cazzo che io mi faccio il vaccino obbligatorio a 25 anni, quelli che sono morti a Bergamo sono morti perché erano vaccinati e non avevano più di chiesi immunitarie, sono morti per una delle ragioni è questa! Cioè tu stai dicendo che quelli morti a Bergamo sono morti perché avevano fatto il vaccino antinfluenzale? Ma come ti permetti? Molti sì, perché gli hanno diminuito il sistema immunitario, erano talmente deboli che erano talmente deboli che erano fatte di attaccare! Ma tu non sei neanche un medico, ma di che cosa parli? Ma tu sei un miracolato dell'Università Italiana tu! Ma tu non hai su questo tema alcuna competenza scientifica di zero! E infatti non mi permetto di dire castronate come il fatto che il vaccino non serve a nulla! Non mi permetto perché la scienza mondiale dice che... Ma uno può dire che cosa? Il vaccino per questo virus non ha più senso perché non c'è più il virus! Ma chi te l'ha detto a te? Come fanno a trovare il vaccino? Ma chi te l'ha detto? Come fanno a trovare il vaccino se non c'è più il virus, dai! Però scusami, io posso dire una cosa, dire sì all'apertura dei bar e poi stupirsi se la gente, giovani che non hanno, hanno pochissime possibilità di infettarsi, prendono l'aperitivo come cazzo vogliono... Dunque Becchi dice viva la Movida, uscite e fate il cazzo che volete o no Paolo? Ma adesso sì! Adesso sì! Sicuramente un mese o due mesi fa sarebbe stato folle, ma adesso in assenza di virus cosa bisogna stare? Ripeto, ad agosto andremo alla spiaggia con la mascherina... Un certo punto aveva accanto il respiro, mi sono dovuto fermare su un muro perché non riuscivo più a attaccare un muro perché non riuscivo più a camminare, non riesci a camminare... Scusa, stai dicendo delle fregnacce rare... Scusami un attimo, ma gli assistenti civici che vogliono mettere, che cos'è questa roba qua? Cioè tu dici che è un ennesimo tentativo di controllare la gente eccetera eccetera, le ronde civiche, gli assistenti civici... Ma questa di nuovo è una pura follia, non so se vi ricordate ai tempi delle ronde civiche quando alcuni dei cittadini dicevano eh c'è troppa criminalità la sera di notte... Ma quella era un'altra cosa, ma che c'entra, erano un'altra cosa quelle... Erano non riconosciute, erano cose non istituzionalizzate, follie... Ci sono le forze dell'ordine, ci pensano loro, e adesso le forze dell'ordine non bastano più, bisogna assumere magari volontariamente, magari anche non pagate, 60 mila persone, ma ci rendiamo conto, queste cose succedono soltanto in un paese di cacca, con un governo di cacca come il nostro, in nessuna parte del mondo, il virus ha toccato parti nevragiche dell'intero pianeta, ma coglioni come noi non c'è stato da nessuna parte del mondo... Ci voleva lui... Cosa ci voleva lui? Cosa? Ci voleva lui a governare, pensate, ci voleva lui a governare Covid, lui ci voleva... Ma certo, io... Il professore di filosofia del diritto dell'università, certo... è il prezzo, avrei preso il modello israeli, se sei un ebreo dovresti sapere conoscere il modello israeli, secondo me è il migliore... Ma lo conosco perfettamente, certo... Ciao Paolo, abbracci, ciao... Ciao, ciao...